Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 21 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo vergine. Coccolati dalla luna nel segno. Una bella accoppiata, la luna nel vostro segno intrigono al trio Sole-Giove-Urano, per conquistarvi le luci della ribalta e il coinvolgimento di chi vi intriga. Se il partner c'è già l'intesa di pelle contribuisce ad approfondire la conoscenza reciproca, tenendo a bada i punti oscuri e gli manca la vostra sensibilità vi gioca un tiro mancino, più lo sognate, lo agognate, lo cercate, più l'amore vi sfugge facendovi marameo. E allora fate come gli antichi che in questo mese celebravano la fertilità di piante e fiori e gli accoppiamenti tra animali, un inno all'amore per la vita che fa sentire il suo canto d'amore per la vita ogni anno. Donna di media età o matura, di carnagioni e capelli chiari, una donna d'affari, benestante, una probabile straniera. Può essere la consultante o un'amica fidata, una consigliera, una collega, una socia in affari. Fiuto e determinazione per i buoni affari, situazione economica e familiare che migliora. Il matrimonio appare solido economicamente e con buone prospettive. Oggi fretta e, in parte, la vostra naturale curiosità potrebbe danneggiarvi. Non cercate di forzare la mano per sapere cose che altri tengono riservate. Buon per voi se oggi sarete altrettanto discreti e riservati. In amore non si può sempre dare. Cerca di valutare con obiettività quanto l'altro ti dà in termini d'affetto e comprensione. C'è un buon margine di riuscita in quello che farete oggi, particolarmente sul lavoro potreste avere degne manifestazioni di stima e cogliere qualche successo personale. I nati di lunedì oggi avranno i pianeti particolarmente lenti e potrebbero avere una giornata stressante e monotona. Riposate di più e mettete da parte la gelosia. Siete dotati oggi di una buona dose di inconscienza, quel tanto che basta a mettere a repentaglio la vostra sicurezza e a affondare case sulla sabbia. Oggi avrete buone occasioni per aiutare il prossimo, fate in modo di farlo con generosità e con spontaneità. Se conoscete qualcuno in difficoltà cercate di alleviare le sue sofferenze. Possibili guadagni ma ad un patto, che vi impegnate più del solito. L'amore vi vacchia e non offre certo particolari emozioni in questo giorno. Ci sono modi e modi di far valere le proprie ragioni, se pensate di essere nel giusto, fate valere le vostre ragioni, protestate pure, ma fatelo sempre con modi gentili e consoni ai vostri interlocutori. È da un po' che siete impulsivi. Viaggi o piccoli spostamenti. Momenti d'Elegri in compagnia di amici. Potrai confondere un'attrazione fisica con l'amore. Attenti al raffreddore. La luna è nel vostro segno, ma il clima è un po' irrequieto per voi, a causa di Marte che vi tiene ancora il bronce dal segno nemico, amatissimo dei pesci, in particolare se siete nati dal giorno 14 al 21 del mese di settembre. Ne deriva che, per la sola giornata di oggi, la vostra efficienza mentale e psicologica non sarà sempre al top, o meglio rispondente a quelle che sono le vostre normali aspettative. La distrazione potrebbe essere in agguato, così come alcuni cali improvvisi di energia. Luna protagonista nel vostro segno, benedetta dal doppio trigono di Giove e di Urano, una combina ottimale per un'escursione nel verde, anche se il cielo non è azzurro confetto e qualche nuvoletta potrebbe minacciare pioggia, con l'attrezzatura giusta e gli indumenti tecnici nello zaino ve ne fate un baffo, felici di godervi il paesaggio e l'ambiente in ogni sfaccettatura, con tutti i suoi profumi e le sue variazioni cromatiche. Amore ed Eros. La vostra dolce metà rispetto alla realtà è un bel sogno, forse siete rimasti all'epoca di Cenerentola o di Biancaneve, vagheggiando una forma di sentimenti irreali, che non trovate nel partner e non trovereste in nessun altro, l'amore perfetto abita, appunto, solo nelle fiabbe. Vivete l'affettività con pacatezza e voglia di costruire. Il sole nel segno del toro vi favorisce nel creare una dimensione intima, calda e accogliente per la vostra dolce metà. Prezioso è l'ascolto che date al partner, che vi ricambierà con altrettanta attenzione e paziente e dedizione, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 del mese di agosto al 4 del mese di settembre. Lavoro e denaro. Creatività in cerca di soggetti interessanti e di tecniche innovative per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Su lavoro anche oggi grintosissimi non solo in modalità esecutiva, ma anche in fase di progettazione, ma attenti che la vostra determinazione non venga scambiata per supponenza. Proprio voi, i più gentili dello zodiaco. Sarebbe una beffa. Lo stesso vale in viaggio, anche se ne sapete più della guida non è carino intervenire a ogni pieso spinto, correggendola o ampliando le sue spiegazioni. Se siete nati nella seconda decade è opportuno non esprimere le vostre opinioni, specie con i superiori. Fate attenzione, eventuali diversità di pensiero possono portare a scontri che Saturno può amplificare. Benessere. La serenità vi ha inviaggiando, la natura risveglia i vostri interessi e vi aiuta a recuperare l'energia ultimamente dilaniata dallo stress. Lettura e spettacoli offrono spunti interessanti di riflessione. Aggiungete qualcosa di nuovo e intrigante alle vostre idee riguardo il mondo, ricordate il proverbio, meglio soli che male accompagnati. Denaro. Il munifico urano è in ottimo aspetto dal segno del toro e un buon affare in termini di investimento immobiliare vi viene proposto da una persona di famiglia, specie se siete nati nella terza decade. E voi, seguendo il vostro fiuto lo valutate, accarezzando l'idea di accettarlo. Per lei, perché negarvi la femminilità? Mente locale sul look per questa sera, via le ciabattine, pronto un vestitino carino, un filo di trucco e via. Sarete uno schianto. Per lui, misogini e musoni pensate ancora colei che vi ha graffiato il cuore, decisi a blindarvi per il resto dei vostri giorni, datevi una mossa, ogni storia è diversa. Colore delle emozioni, avio. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie. 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 Grazie.